Buongiorno a tutti, nell'ambito del festeggiamento dei dieci anni di sinestesia, abbiamo l'onore, veramente l'onore di parlare con Orassio Pagani, che è il fondatore di questa azienda incredibile, che è la Pagani Automobili. Grazie mille per la sua disponibilità. Partiamo proprio dalle sue origini, cioè l'Orasio Pagani di 13 anni, che creava modelli con materiali di fortuna, cosa direbbe all'Orasio Pagani di oggi? Come vedrebbe il suo percorso e la realizzazione poi del suo sogno? Diciamo che è un percorso che sto continuando ancora da quando ho iniziato tanti anni fa. Ho sempre lavorato con la stessa energia, la stessa serietà, entusiasmo, passione, perciò credo che tutto stia andando avanti come è nato 50 anni fa. Non ci sono grandi differenze se non quella di avere adesso una compagnia che comunque richiede sicuramente una responsabilità molto superiore che quando ero da solo, che ero un ragazzino, ecco. Però il concetto è sempre quello. Certo. Per essere liberi bisogna avere delle radici molto forti. Sappiamo quanto è ancora legato all'Argentina, alle sue origini, quindi da dove è partito. E quindi quanta Argentina c'è ancora oggi nei progetti che crea per la sua società? Diciamo che l'Argentina mi ha dato tante cose. Ho vissuto molto meno anni in Argentina che in Italia perché ho 65 anni e sono arrivato qua a 27 anni, perciò c'è tanto di italiano nella mia vita. Cioè i miei figli sono italiani, la mia famiglia l'ho fatta in Italia, perciò c'è tanto di italiano. Però sicuramente più che l'Argentina la mia famiglia, i miei genitori, i miei nonni, cioè loro, il contesto, ma soprattutto la loro educazione. Credo che è quello che mi ha dato e che ci ha dato anche a me, a miei fratelli, questa... e questa... le vassi per poter camminare e andare avanti. La sua storia è legata moltissimo poi al concetto di passione, che credo che sia quella che ha guidato poi la sua idea dalla nascita fino poi alla realizzazione. E talento, ingegno e creatività. Qual è la misura di queste tre componenti nell'opera? Allora, partiamo dalla passione. Cioè la passione in qualsiasi area è quello che è l'energia. Perciò la passione è questa fonte inesauribile di energia. Più passione hai, più energia hai per andare avanti, a prescindere da quello che fai. Perciò le persone che hanno fatto delle cose e che storicamente vengono ricordate, che le vediamo anche in diverse discipline, che hanno fatto delle cose. Sono persone che hanno soprattutto passione e sanno trasmettere questa passione agli altri. Ci sanno coinvolgere gli altri. Perciò dire quale sono gli ingredienti, diciamo così, per fare delle cose nella vita, in qualsiasi disciplina che tu stia portando avanti. Cioè purtroppo qua facciamo delle macchine. Perciò si sentiamo un rumore di macchine. E diciamo, una cosa molto importante è la disciplina. Essere rigorosi, essere molto costanti, avere una enorme dotazione di pazienza. Amare il lavoro. Cioè il lavoro lo devi amare. Qualsiasi cosa tu fai è importante, perché è quello che ti ha da mangiare. Da pulire per terra, a fare l'ingegnere della NASA, diciamo, il nostro lavoro ci dà la possibilità di mangiare, ci dà la possibilità di progredire, di far crescere i nostri figli e di dare in qualche modo un contributo alla società. Perciò non importa quello che tu fai. L'importante è che lo fai bene, che lo fai con impegno e con serietà. Poi, se devo dirti, quanto talento e quanto sudore, 10% talento, 90% sudore. Allora, il suo sogno è stato in grado di ispirare veramente intere generazioni di designer. Ma in generale diciamo che è un'ispirazione per tutti coloro che rincorrono poi le proprie aspirazioni. Quindi, conoscere la sua storia è una storia che veramente può dare il coraggio a chi vuole intraprendere un percorso, di rinseguire il suo sogno. Quindi, che effetto le fa questa cosa? Come si sente in questo ruolo di... Beh, diciamo, io quello che ho fatto l'ho fatto perché era la mia passione. Perciò non è che l'ho fatto per diventare famoso. L'ho fatto perché amo il lavoro, amo le macchine, amo le cose che faccio. Poi, diciamo che mi è sempre piaciuto interagire, perciò lavorare in team. Perciò nel lavorare in team devi avere rispetto per gli altri, devi sapere stimolarli. Insomma, devi avere una certa capacità di leader. Se questo oggi può essere utile a qualcuno, meglio. Diciamo che io non sono mai stato né un studente brillante, non ero il migliore della classe. Anche nelle materie che mi appassionavano di più, anche le materie scientifiche, ho sempre fatto fatica. Ho fatto fatica perfino a disegnare, a imparare a disegnare. Perciò, e vengo dall'Argentina, di un posto della Pampa, dove non c'era una cultura automobilistica, del design. Cioè non era né Modena né Torino, né Detroit o Stoccard. Perciò si può essere utile agli altri, che una persona, addirittura piccola, senza nemmeno tanta forza e tanta energia fisica, senza nemmeno essere stato bravo, ripeto, a livello scolastico, è riuscito a fare questo, vuol dire che per chi nasce in un mondo come quello di oggi, dove la informazione, dove le conoscenze, dove le opportunità sono ancora molto, molto superiori rispetto alle mie, sicuramente ha mille volte più possibilità di quelle che ho avuto io. Invece, che cos'è per lei l'innovazione, visto che lei di innovazione ha fatto, voglio dire, nel suo mestiere, perché l'innovazione nel design, l'innovazione nell'utilizzo dei materiali, è solo un processo tecnico oppure è un grandissimo progetto creativo e legato anche proprio alla passione dell'innovazione e della scoperta? Credo che la curiosità quotidiana, continua, è quello che ti permette di imparare. Perciò nella misura che tu hai curiosità, osservi le cose, hai voglia di studiare e vuoi aumentare le tue conoscenze. Perciò la vita in fondo è un esperimento, è un percorso, è un viaggio esperimentale, dove puoi trovare delle cose che non ti aspettavi nel bene e nel male. Perciò in questo percorso sperimentale devi sperimentare. Perciò quello che ho fatto e quello che facciamo con tutti i miei colleghi è portare avanti delle attività che sono sperimentali, delle attività di ricerca, ecco, questo. Poi lo devi sempre fare con passione. Se ti accompagna lei, tu sei abbastanza sereno. Quindi l'innovazione è una necessità fondamentalmente per andare avanti nel proprio percorso? L'innovazione vuol dire il progresso. Cioè in ogni area è progresso, no? Se l'uomo è arrivato alla luna e vuole arrivare a Marte, si deve dare da fare per capire come far arrivare queste navicelle fino a Marte. Per fare quello ci vuole innovazione. Se vogliamo migliorare il pianeta, adesso che demagogicamente si parla anche tanto di questo, oggettivamente però, ci deve essere della gente che si mette a lavorare, studiare, aumentare le conoscenze, a sperimentare per poi vedere come trovare i mezzi per salvare questo pianeta, visto che è un tema abbastanza di moda. Molto caldo. Molto caldo in questo momento. Invece come vede le nuove generazioni, che come diceva adesso hanno anche molte più possibilità rispetto magari anche solo a qualche anno fa, e sempre nelle nuove generazioni, vede anche più donne all'interno anche del lavoro, del lavoro che fino a qualche anno fa era considerato prettamente maschile ad esempio? Allora, le nuove generazioni, diciamo, sono molto ottimista naturalmente verso le nuove generazioni, perché se pensiamo che la Pagani ha un'età media di 31-32 anni, diciamo, è una ditta molto giovane, perciò bisogna credere. Temo che però in generale oggi la gente sia molto distratta, la gente pensa troppo alla informazione, e la gente si alza la mattina e vuole o guardare il giornale, o guardare la tv, o leggere. La gente ha bisogno quotidianamente di informazione, invece la informazione dovrebbe essere rimpiazzata dalla conoscenza, dallo studio. e perciò credo nei giovani assolutamente, però ci deve essere anche una, più una, probabilmente una consapevolezza di sviluppare più il senso del dovere che non quello del dovuto. Per quanto riguarda le donne, io credo fortemente nelle donne, ho un grande rispetto e credo che oggi abbia più energia rispetto all'uomo. Cioè i ragazzi giovani sono bravi, ma sono estremamente fragili. La donna ha più coraggio, più energia, quello che vedo nella media. Qui ci sono stati dei momenti in cui le donne occupavano anche dei pocce nel ufficio commerciale, nella produzione, nel personale. Io credo molto nel lavoro delle donne. Poi i materiali compositi sono una tecnologia che viene, quello come lo facciamo noi, così come si fa una macchina di Formula 1, vengono fatte con le mani. Perciò da noi, non so qual è la percentuale uomo-donna in questa vita, ma di donne ce ne sono tante, però nella lavorazione del carbonio, ad esempio, la donna è molto molto meticolosa, molto precisa e riesce a fare un qualcosa che prima era solo possibile a un uomo. Cioè un telaio di una macchina, storicamente fatto saldato, piegato alla lamiera o in tubi, che ne so io, fatte con questa tecnologia, o anche una carroceria in alluminio lavorata col maltello, non lo poteva fare una donna, è più fragile la donna. Perciò era un lavoro esclusivamente da uomo. Oggi invece, da noi, una donna fa il telaio di una macchina, fa una carroceria di una macchina. Sempre parlando di giovani e di futuro, un designer che volesse diventare il nuovo Horacio Pagani, che cosa... Io non ho mai lavorato per diventare Enzo Ferrari, piuttosto che Ferruccio Lamborghini. Ognuno deve seguire un suo percorso. Poi, se hai delle persone che per te sono state importanti, come per me è stato importante Pininfarina, Gandini, Vertone, Giugiaro, anche Enzo Ferrari, anche gente magari meno conosciuta, ma che sono stati dei punti di Einstein, soprattutto Leonardo da Vinci, che uno prenda come riferimento, come tutor, come ispirazione, altri, credo che sia una cosa naturale e anche molto bella, perché è un premio anche, no? Però uno deve diventare se stesso. Quello che suggerisco, perché dare dei consigli non mi sento preparato, quello che suggerisco è quello di imparare a disegnare bene con le mani e poi studiare per quanto possibile la storia di Leonardo, la filosofia di Leonardo, perché studiando Leonardo puoi imparare veramente come seguire la tua carriera. Che tu sia un architetto, un ingegnere, un designer, un ricercatore, Leonardo ti dà più o meno la risposta a tutto. E Leonardo era un tipo molto semplice ed era una persona molto, molto positiva, che era creativa, ma non è perché era un genio, era un genio perché era umile, era un genio perché sapeva parlare con le altre persone, perché si metteva alla prova continuamente, era una persona che soffriva anche molto, non era uno che se ne fregava, era una persona con una marcata sensibilità. e perciò credo che sia importante studiare Leonardo leggendoci un po' di libri. Lui è stato probabilmente, credo, non lo so se è stato il primo, però almeno di quello che mi risulta, è il primo che ha detto che arte e scienza sono due discipline che possono camminare mano nella mano. E nel suo campo, quindi nel campo del design, dell'automotive, come vede i prossimi dieci anni, guardando il futuro, come vede queste discipline? Già tutti i costituttori degli automobili, noi compresi, lavoriamo molto per cercare di fare in modo che le macchine siano più pulite, vadano più verso l'ambiente. In ogni modo, bisogna lavorare tutti per cercare, prima di tutto, di trovare il modo di produrre energia elettrica con delle fonti che non siano inquinanti come il petrolio e come il carbone. Ci vorrebbe gente che abbia veramente delle conoscenze tecniche, scientifiche, per dare un supporto a chi deve prendere delle decisioni. Non deve essere una questione demagogica, deve essere una questione veramente oggettiva se non rischiamo di farci del male. Credo che la macchina elettrica sia molto importante, la macchina elettrica, la moto elettrica, il messo di trasporto elettrico all'interno della città. All'interno delle città assolutamente sì, perché la concentrazione demografica è molto alta. Però all'interno di una città non è che ti serve una macchina con 1000 cavalli, nemmeno con 300 o 500. Ti serve una macchina che faccia i 50 o i 60 all'ora, normalmente con due posti, perché la maggior parte della gente si sposta con poche persone, e poi bisogna abituarsi a usare la bicicletta e a camminare. Io abituo a 3 km, perciò molto vicino, perciò vengo a lavorare o a piedi o vengo a lavorare in bicicletta, perché è il messo di trasporto più semplice e più economico che c'è. Quando sono a Milano mi muovo in bicicletta o a piedi, perché è il messo di trasporto più semplice, ok? Perciò bisogna, credo, cominciare a prendere delle abitudini che siano più sagge. E questo, quindi, ancora di più richiede un cambio culturale? Assolutamente. Einstein diceva che i giornali vanno letti alla rovescia, e io sono d'accordo con Einstein. e io sono d'accordo con Einstein.